Ciao ragazzi, Magiboy, faccio vedere qualcosa di veramente incredibile, non sto scherzando. Quello che vedrete non vi darete una spiegazione logica, questo è poco più sicuro. Come funziona? Si fa con una carta bianca, spero che sia bene, una carta bianca, normalissima. E la cosa interessante è che, guardate, basta poco e sembra che appare un seme. Sembra, l'illusione c'è, è perfetta, però non è ancora convincente come dico io. Deve essere proprio vera, vera e pura. Guardate, mi muro lentamente, questo è importante. Watch. Ci siamo. Adesso è convincente.